Oggi è un giorno importante per questa azienda perché acquisisce una professionalità per così dire eccezionale, una casistica operatoria rilevantissima. È importante per non perdere nell'azienda sanitaria di Teramo questa vocazione nella neurologia, nella neurochirurgia, nella radiologia interventistica, nella cura degli iclus e dell'aneurisma cerebrale. È un passo importante perché in qualche momento abbiamo anche avuto timore di perdere questa vocazione, perciò lasciamo alla ASL di Teramo un risultato significativo. Poi oggi annunciamo anche l'acquisizione di una risonanza 3 Tesla, una macchina estremamente preziosa, efficiente e importante in questo ospedale. Spero di poter avere un personale che mi aiuta e a cui io posso trasmettere le cose che sono riuscita ad apprendere e che adesso riesco a fare. Questo penso che siano gli aspetti fondamentali. Il lavoro si fonda sulla squadra affiatata che condivide gli oneri e gli onori. Non è un lavoro semplice perché abbiamo a che fare sempre con la vita delle persone, abbiamo a che fare con patologie molto gravi e che quindi richiede il massimo dell'attenzione, il massimo dell'integrazione del personale che deve essere tutto estremamente affiatato e specializzato.